Bentornati a questo nuovo appuntamento con Update Espresso. Questo mese il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato il consueto aggiornamento del suo World Economic Outlook. La crescita del PIL mondiale è stata lievemente limata per il 2021 ed è stimata a testarsi poco sotto il 6%, confermando quindi il forte rimbalzo rispetto al calo dello scorso anno. 2021 è dunque un anno di transizione e a partire dal 2022 la crescita è attesa a tornare gradualmente su ritmi più moderati, simili a quelli osservati prima dello shock. Nel breve periodo tuttavia permangono rischi a ribasso legati non solo all'evoluzione della pandemia, bensì anche agli squilibri tra domanda e offerta che stiamo osservando recentemente che stanno generando pressioni inflative. Se da un lato le condizioni di domanda sono ampiamente positive e dall'altro si registrano diverse criticità dal lato dell'offerta dovute alla combinazione di carenza di materiali e manodopera, crisi energetica e strozzature nella distribuzione, in particolare nel settore del trasporto marittimo dove i prezzi dei container stanno aumentando vertiginosamente. Il dibattito se tali pressioni inflazionistiche siano in natura temporanea o più persistenti sembra al momento propendere verso la prima ipotesi, ma sarà sicuramente necessario osservarne attentamente l'evoluzione nei prossimi mesi. Notizie positive invece per il PIL dell'Italia, le cui previsioni di crescita sono state riviste a rialzo, non solo dal Fondo Monetario, ma anche da altri previsori, tra cui ad esempio Oxford Economics, che punta a un'accelerazione oltre il 6% per quest'anno, grazie in particolare alla performance robusta stimata per il terzo trimestre a fronte di indicatori congiunturali stabili su livelli alti per imprese e famiglie. Anche per il 2022 la crescita attesa è stata ritoccata verso l'alto a più 4,8%, sempre secondo Oxford Economics, relativamente più ottimista in questo caso rispetto al fondo, che prevede un più 4,2%. Sul miglioramento delle prospettive contribuiscono principalmente la dinamica degli investimenti, attesi in forte accelerazione grazie alla spinta propulsiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle relative riforme strutturali, la domanda estera e in misura minore anche i consumi delle famiglie. La congiuntura internazionale impone ovviamente di considerare anche per il nostro Paese potenziali rischi a ribasso, dovuti ai colli di bottiglia nelle produzioni e all'aumento dei prezzi dell'energia. A oggi la produzione industriale italiana sta mostrando infatti una maggiore capacità di resilienza rispetto a quella tedesca e francese. Nei primi otto mesi dell'anno l'indice ha segnato un aumento del 16,1% in volume su base tendenziale, con performance con risultati superiori al 20% per parecchiature elettriche, gomma e plastica, metalli e mezzi di trasporto. Non si esclude tuttavia un possibile rallentamento nei prossimi mesi che sarebbe da imputare ai ritardi nelle consegne per la carenza di materiale e problemi legati di nuovo alla distribuzione a fronte di una domanda attesa che è prevista rimanere sostenuta come desumibile dai nuovi ordini domestici ed esteri segnalati appunto dai direttori degli acquisti delle imprese manifatturiere. Per le costruzioni l'indice della produzione ha registrato un forte incremento nei primi otto mesi dell'anno, oltre il 30% in volume su base annua, in questo caso favorito dagli stimoli fiscali. Soprattutto per questo settore i principali rischi derivano dall'aumento dei prezzi delle materie prime e dalle interruzioni delle catene di fornitura. In questo contesto però le insolvenze sono tornate a crescere nel primo semestre, come certificato dai dati CERV e De Union Camere, ascrivibile prevalentemente a un effetto base dovuto al confronto con lo stesso periodo dell'anno precedente, caratterizzato da una forte contrazione. Per l'intero anno le nostre previsioni puntano una crescita delle insolvenze intorno al più 32% rispetto al 2020, come riflesso non solo dell'effetto base, bensì anche del progressivo ma non completo, venir meno dei provvedimenti straordinari introdotti all'apice della crisi. Nonostante l'inversione di tendenza, nel 2021 il numero di fallimenti continuerà a essere inferiore a quello normale pre-pandemia, grazie all'effetto congiunto di una ripresa economica superiore alle attese e del persistere di alcune delle misure di sostegno. Nel 2022 il livello tornerà sensibilmente sopra quello pre-pandemico e questo è dovuto a un pieno ritorno alla normalità a cui si aggiungono i fallimenti delle cosiddette imprese zombie, ossia di quelle aziende che sarebbero probabilmente fallite anche senza la crisi e a cui corrisponde un tasso di crescita annuo previsto poco sopra il 38%. Al prossimo appuntamento con Update Espresso.